1 2 3 via 1 2 3 chic radersi diventa un piacere questo il rasoio chic injector il suo angolo di rasatura è tecnicamente perfetto il suo bilanciamento appositamente studiato dà alla testina il giusto peso per una rasatura sempre delicata e che dolce piacere per la vostra pelle che rimane sempre morbida e vellutata ed ecco il caricatore chic injector da 5 e 10 lame in acciaio super inossidabile 1 2 3 per il massimo confort chic injector da oggi in poi la barba è vista da un nuovo angolo l'angolo facile di chic injector ricarica semplice clac clac fatto fra lama e pelle l'angolo facile l'angolo perfetto per una rasatura perfetta la barba è vista da un nuovo angolo l'angolo di chic injector